La mano mia mi pare il vestito di nozze di tuo padre, eh? L'ho cucito nel 23 e pare che ne scio oggi dalla sartoria. E solo il giorno del matrimonio se l'è messo? Dici che lo vuole indossare solo da morto. Certo, se uno si presenta al padre eterno con un taglio così, ho posto un paradiso, un cioleva a nulla. Ma mio padre è ancora giovane. E tu mi pare che sei ancora troppo piccolo per portare i pantaloni lunghi. Voi se si deve fare i fatti suoi, basta che io lo pago. Ma tuo padre è d'accordo? E certo che è d'accordo. L'azzo del fattiato. Signore Renato Amoroso, che lei a scuola faccia a Sicilia un giorno sì, un giorno sì. Sianza, che non l'ha fatto la sua età. Che lei si faccia per stare come un miserabile dai suoi coetanei, Sianza al cuore. Anche se a me dentro ero io a rompergli le corna. Ma che lei si mette a rubare in casa i pantaloni di suo pace e li conduva dal sarto per farseli adattare, non c'è nessun sarto! Allora che qualcuno spaccherà la testa in due, a che dico io! Allora ti farò i pantaloni lunghi! Ti giura! Ora te ne puoi entrare! È passata! Ciao!